Ciao, siamo qua con Francesco Laforza, rappresentante del BG Milano, è la festa di Via Padova e ci chiedevamo se la risposta politica da parte del Comune per gli eventi che hanno sconvolto questa zona secondo lui sono adeguati, o è una risposta che merita altri interventi, cosa ne pensate voi del BG? Io ho fatto un giro con i consiglieri comunali due giorni dopo le regioni, abbiamo attraversato a Via Padova, io ho visto che ho visto parlando con i residenti, con i commercianti, e la risposta dei residenti e dei commercianti è stata per fare qui, cioè le misure della morale non solo non sono tradizioni a nulla in relazione al tema della situazione, ma vissano di sospicare un concorso di un anno e di creare una situazione che oggettivamente non pone il tema della sicurezza dal diretto, ma è soltanto una parvenza di controllo sociale che non è una situazione di cui da questo punto di vista le misure della morale erano assolutamente inutili. E quali sarebbero le misure invece che proponete voi? Ma intanto noi abbiamo sento in Italia effettivamente il controllo del tema della legalità, cioè il tema del controllo, per esempio, più affitto, più irregolare, piuttosto che fare, come dire, normalmente quello che dovrebbe fare, un servizio di pubblica sicurezza necessario, cioè il controllo senza che questo sia rappresenti come un'ossessione, perché è quello che sta accadendo qui in Padova e che dopo una certa ora sembra che ci sia effettivamente un po' di proposta. Quindi noi chiediamo che ci sia un controllo da parte delle forze di polizia senza che farò questo diventi una minaccia. E più però si deve essere una riposta dal punto di vista anche culturale, cioè le associazioni di Padova e non solo di Padova, venendo a tante realtà anche le nostre posizie del traffico parco-profer devono avere gli strumenti finanziari anche per poter essere utilizzate anche in funzione di un rafforzamento del tessuto sociale e l'integrazione di questo pezzo di città. Credo che una risposta politica e culturale da tuo punto di vista sia alla lunga molto più efficace di una risposta falsamente repressiva come quella che è. Introduci già il discorso, la risposta dei cittadini, la risposta è stata molto forte, più di 58 associazioni si sono riunite in una rete unica per offrire questa festa, ma una serie di eventi che potesse essere di aiuto all'integrazione. Come valuti questa risposta forte e come la politica può contribuire a dialogare con questa rete? Ma questa è una manifestazione di orgoglio, questo pezzo di città io direi della città in generale, perché non si rende l'idea che questa sia una città che sta cadendo a livelli più bassi del suo degrado, cioè che non si rende l'idea che questa città possa essere in qualche modo rappresentata come una città ormai abbandonata dal senso. Invece c'è un grande orgoglio, un grande sentimento di ritalizzazione, ci sono associazioni sempre di cittadini che vogliono vivere la loro città, non nel degrado, ma rivalutando anche le bellezze, quella del passo troppo da raccontare il riferimento prima è proprio il caso da questo punto di vista rappresentativo. La manifestazione di oggi è una manifestazione rappresentativa che mi sveglia un orgoglio forse di subito, forse represso, e in più io ho partecipato, anzi a una passaggiata liberatoria qualche settimana fa, sono piccoli, grandi segnali di rivitalizzazione di una cittadinanza attiva che vuole rimettere in gioco e soprattutto vuole che Milano meriti di più. Via Padova è meglio di Milano, è questo lo slogan della festa, cosa ne pensi, cosa significa? Via Padova è meglio di quella Milano che è stata giocita dal senso destra ininterrozzamento negli ultimi anni, cioè vuol dire che da qui può partire effettivamente un orgoglio che centro-destra ha volutamente e deliberatamente soffitto e via Padova è meglio di Milano ma Milano per esempio ha merito anche molto di più, nel senso che partiamo da qui per ricostruire una manifestazione che è veramente diversa e radicalmente diversa da quella che è stata giocita. A noi ringraziamo Francesco Laforgia che nonostante la febbre è sceso in mezzo a noi e nelle vie della città, grazie. Grazie a tutti.